salve dalla valcantuna arsie come pomigliano d'arco il datore di lavoro ruggero soltanto con l'intervento di landini siamo riusciti a ottenere cinque minuti di pausa il capo cantiere nonché il più anziano della truppa i do è d'accordo no lui va bene non importa viva l'articolo 18 ci siamo sfruttati da ruggero che praticamente si è schiavizzato da stamattina senza norme di sicurezza landini aiuto e della valcantuna è tutto